Un saluto da Mr.Striker e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi spiegherò come installare una delle mod più famose di Minecraft, ossia la mo. Creatures. Versione 1.1. Questa è la mod che non mi ha fatto concludere il mio modpack. Adesso non ha senso finirlo perché ho iniziato l'hardcore. Come si installa questa mod? Non è facile. Ecco perché faccio il tutorial. Ovviamente come tutte le mod. Dobbiamo andare su %appdata% e su .minacraft. Dobbiamo aprire bin e poi dobbiamo aprire minacraft.yarkonwinraro con 7 zip. Per ogni mod che noi dobbiamo installare noi dovremo eliminare la cartella meta-inf. Quindi facciamolo. Aspettate un attimo che Cantasia mi fa lagare. 3 ore per eliminare una cartella. Ok la prossima lagosa lagata di lag che fa lagare il mio lagoso pc per questo lagoso programma di lag. Ma lasciamo perdere XD. Per prima cosa dovrete scaricare e troverete in link in descrizione questo pacchetto. Quindi estraiamo e dopodiché osservate con i vostri occhietti da nerd bene lo schermo. Vi faccio uno zoom. Ci sentiamo dopo. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Dopo aver messo tutti i fallo.class di tutte quelle cartelle in minacraft.iar, a parte la sotto cartella ressources della mod creatures che va inserita in ressources nella cartella .minacraft, avrete la mod perfettamente funzionante. Se non funziona eliminate il fallo options del vostro minacraft e se non funziona ancora riprovate a riscaricarla. E se non funziona ancora contattatemi. E se dopo tutto sto macello non funziona ancora? Beh lo scoprirete nel prossimo video. Muah ah 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 ah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.